Mimmo, con la festa di fine anno si è chiusa la stagione 2013-2014 per l'APB 63 Mini, una stagione importante sotto tutti i punti di vista. Sì, la stagione è partita con un numero di 100 iscritti, siamo arrivati alla fine dell'anno toccando quota 220, compresi i bambini della scuola dell'infanzia. Tantissimi bambini che sono venuti in palestra e speriamo poi per l'anno prossimo di avere ancora più affluenza, visto tutti i progetti che abbiamo in mente di fare per il prossimo anno. Ecco, tanti bambini, tante partite, tante attività, tanti istruttori e tante iniziative come gemellaggi ed eventi collaterali che sono stati già organizzati. Sì, i numeri sono alti, 34 partite sordinti, 70 partite aquilotti, concentramenti scoiattoli, concentramenti pulcini, gemellaggio a Ostia quest'anno con i bambini del 2005-2006 e tante attività fatte nelle scuole. Diciamo che sono stati due mesi iniziali a ottobre e novembre con tutte le scuole elementari a Battivaglia e abbiamo finito con arrivare nei paesi limitrofi tipo Macchia, Monte Corvino, Rovella, dove l'anno prossimo quasi sicuramente provvederemo a fare nuovi progetti nelle scuole. Ecco perché tante iniziative ma a quanto pare per la prossima stagione si farà ancora di più sul serio. Sì, stiamo cercando di toccare non solo Battivaglia ma di andare fuori comune, quindi Monte Corvino, Eboli, cercare di prendere più comuni possibili dove l'attività di mini basket o non esiste o viene fatta poco. Ecco, l'Epic Kids Camp sarà soltanto l'antipasto per la prossima stagione? Sì, per la prossima stagione prevediamo di fare ancora meglio anche in collaborazione con la LOL attività sempre ludiche dove il bambino rimane sempre protagonista.